Ciao ragazzi e bentornati in un nuovo episodio di StarCraft 2 e vediamo cosa ci propone come missione il copilota. Abbiamo ancora la missione di Agria, che forse è meglio anche farla perché continua a spuntarci fuori, e abbiamo questa qua, Belshir. Vediamo un attimino quale fare. Questa, quella che abbiamo visto prima negli episodi precedenti, ci dà 100 milioni di ricompensa e 3 di Cerche Zero. Questa invece su Belshir c'è un gas molto raro. I Protos lo chiamano l'alito della creazione. Pensano che sia un dono delle loro divinità. Noi lo chiamiamo Terrasin e vale una fortuna se trovi l'acquirente giusto. Ovviamente i Protos ci ucciderebbero se ci trovassero sul loro suolo sacro, o almeno ci proverebbero. Ok, questa ti dà 120 come crediti e 3 ricerche Protos. Io sono tentato ancora a fare questa perché mi dà 120, poi questa vedremo di farla in un futuro, se ce la daranno ancora o vediamola. Eccoci arrivati. Molto meglio di Redstone, eh? Preferisco evitare di combattere i Protos se posso. Non erano semplici Protos, ma fanatici chiamati Taldarim. Credono che il Terrasin sia sacro, un dono degli Xelnaga. Se questi Taldarim fanno arrivare le loro unità aeree, per noi è la fine. Suon, invia i progetti dei Goliath alla fabbrica. Se i loro missili antiaerei sono ancora buoni, potremmo usarli. Va bene, Cowboy, li mando subito. Così potremo costruirne altri. Come ce lo procuriamo, il Terrasin? Vedi quegli altari? I vistici Taldarim li hanno creati per raccogliere il Terrasin. Dobbiamo solo prenderlo. Beh, i nostri SCV si occuperanno di prendere il Terrasin. Bisogna solo proteggerli. Con un po' di fortuna riusciremo a raccogliere ciò che ci serve prima che i Taldarim ci scoprano. Forza, mettiamoci al lavoro. Allora, missione attuale, benvenuti nella giungla. Come al solito, stessa procedura per tutti. Che gli SCV li mandano a minare e a tira fuori il gas per spiega. Subito, basta. Poi vedo cosa mi danno qua. Allora, ho una casa. Ecco le coordinate dei posti in cui si trova il Terrasin, fratello. Dovrebbero facilitarci le cose. I nostri SCV possono raccogliere e spostare le bombole di terra. Terrasin, ci vorrà un po' per staccarle, quindi teneteli d'occhio. Ok, allora, abbiamo due case. L'officina bellica che ci permette di tutto migliorare i nostri pippottini. Proviamo, a base dei mercenari, la caserma. Io adesso sto costruendo il reattore per costruire due unità alla volta, non più una. E abbiamo questa fabbrica che ci permette di costruire questi. Che vale ho avuto? D'oglia. Che sono quelli che sparano anche alle unità aeree. Ha intenzione di darmi ordini. Dobbiamo di fare altri SCV. E' un uomo che prendo per costruire case. E' un uomo che prendo per costruire case. Mi servono tante di fare. Poi queste missioni in SCV serviranno anche per estrarre il gas. Per questo, per cui chiedo a nonostro. Mi devo lasciare il gas prima di evitare. Però adesso non ce ne devo... Mi devo traccio di evitare il SCV, quindi... Riesco a difendere la base. Noi! Non ce ne devo... Ma non ce ne devo... Noi! Non ce ne devo... Poi... Non ce ne devo... Non ce ne devo... Non ce ne devo... Quindi l'obiettivo principale, raccogli i terzi, sette, e infatti non devono sigillare sette altari, ok, poi devo trovare anche come obiettivo secondario le reliquie dei protes che mi danno i punti di ricerca, e quello per loro secondario non per me è il momento principale perché devo aumentare le mie ricerche, i miei punti di ricerca. Andatene, immediatamente. Ehi, calma, ci serve solo un po' di questo gas e ce ne andiamo subito. No, non potete profanare l'alto della creazione. Rieri Talgarit, uccidete chiunque profani i nostri altari. I protos si stanno mobilitando, signore. Pare che stiano inseguendo i nostri SCV mentre recuperano il Terrasin. Suggerisco di lavorare su un sito alla volta e proteggere i mezzi con una scorta pesante. Andiamo fino a qua. Comunicatore è acceso. Ma ferma il dibo. Facciamo le cose per bene, ragazzi. Speriamo di riuscire a recuperarne uno. Speriamo di riuscire a recuperarne uno. Eh, ci impiega un bellezza per estrarlo, eh? Eh, mi hai spaventato! Attenzione, i Taldarim stanno sigillando un altare di Terrasin. Oh, assolutamente. Fantastico. I Taldarim stanno sigillando tutti gli altari di Terrasin per impedirci l'accesso. Se continuano così, non potremo raccoglierle abbastanza. No, no, non devono sigillarle. Ti stavo aspettando. Ordini ricevuti. Chi è che vuole prenderle? Ricevuto. Capito? Non è abbastanza meglio. Anzi, non si vanno scegliendo un'assassimità. Un lavorone, eh? Di strutture un momento con la fame. Signore, la prima bombola è stata sganciata. La porto al centro di comando più vicino. Minerali insufficienti. Ottimo lavoro. Prima bombola riempita. Roger! Armato e pronto. Perché no? Non vedo l'ora. Ecco il dottore. Dovrei riempire a far qualcosa di interessante. Signor Rhaenor, sei coraggioso a raccogliere Terrasin da due posti contemporaneamente. Sarà più difficile tenere alla larga i Taldarim. La prima finiamo e prima ce ne andiamo da questo sasso. Minerali insufficienti. Minerali insufficienti. Merda. Minerali insufficienti. Questo qui c'è qua. La reliccia. Seconda cosa è finito Spero che ne manca la pena Garantito Non ruberete l'alito della creazione Tanto facilmente Attenzione Stanno mandando le navi a eliminare I vostri scp Fateli fuori alla svelta O è la fine Ok 3 si ne sono 3 abbiamo preso Garantito Spero che ne valga la pena Non fermate Vi ci avuto comando Versandio disegnato Dai testi 2 e via E 3 Stai andando alla grande Continua così Avanti comando tattico Dati ricevuti comando tattico E con questo siamo oltre la metà Vi ci avuto comando Attenzione I Taudarin stanno sigillando un altare Oh perché Dovete sigillare ragazzi Ti stavo aspettando Affermativo E non c'è Non c'è arrivare il tempo L'unghio che me la fanno Non c'è arrivare il tempo Spero di ricevuti Ricevuti sicuro in marcia te lo farò? non so se ho fatto proprio un affare con il piacere mi chiede resistenza un punto un aiuto pirativo sarà fatto minerali insufficienti altri minerali? e sono tutti quindi a estrarre la roba dica ha intenzione di tanti ordini? certo signor scb prod ok si vai a riparare si sta lentamente dai atto pirativo io spero di 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 concludere la missione senza farsi pillarmi sull'altare però la vedo un po' comunicatore acceso? un po' dura avanti il comando d'attico c'è bisogno di me? minerali insufficienti minerali insufficienti potenziamento completato lei è tutto pirativo chi è che vuole prenderli? non è che quando sì signore non riesco a passare capito cagare il cazzo da qualcuno armato e pronto mi chiedo si spezza attenzione i talberini stanno sigillando un altare di tenesio certo garantito garantito garantito, sicuro, in marcia Spero che ne valga la pena perché no Ti stavo aspettando speriamo di riuscire ecco poche risorse poche risorse, adesso non ho tutta la casa eh, non so, non so, i moni, i depositi adesso arrivano anche i depositi dammi un attimo di domenica facciamo le cose per bene ragazzi ok qua è stato libero dando l'uscita ad arrivare in tempo è il caso che mandiate altre sacche da cadavere ma certo ordine ricevuto perché no oh oh fantastico anche questo è al posto ecco il dottore non ricevuto hm dove posso andare guarda lo suono un piacere si pulai assoperativo ooooh non vedo l'ora oh yeah voi tuoi randaggi ci sapete fare manca solo una bombola va ottimo sono una bombola quindi le controlli tutti attenzione i talverini stanno sibillando un artare di terrestre no non devono strutturare affermativo certo signore attenzione i talverini stanno sibillando un artare di terrestre io non credo io non credo in roger oh fantastico va bene con piacere sicuro in marcia in guadagnare guadagnare giusto in guadagnare 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 ricevuto eeeh quanto vogliamo c'è io prendo questi che vanno a fare un giro che succede rojan dica minerali insufficienti si va c'è bisogno di me garantito e cosa fatta li metto tutti insieme li vado a spaccare un po' il mondo spero che ne valga la prima se non necessari altri depositi con piacere quando si iniziano a sigillare dovrei riuscire sarà fatto dovrei riuscire a fare fatto ecco il dottore dovrei riuscire ad andare da una parte all'alto della mappa se non c'è problema no ti stavo aspettando garantito ah qua va bene va bene ma certo ma certo ma certo chi è che vuole prenderti non ci ha ma certo signore non ci ha bisogna fare lì che è recuperata roger minimale non ci ha non ci hanno rischiare la inconsistenza affermativo sicuro in marcia cattiva notizie è lei il capo sei signore facciamo le cose per me e cosa fatta attenzione i dalgarin stanno sigillando un altare di terzi avanti il comando si sta in funzione ha intenzione di darmi ordini la base è sotto attacco ti stavo aspettando con piacere quindi per il momento non ha chiuso neanche uno intesi non vedo l'ora devo recuperare la piaccia del signore certo non è giusto non è non è che il Grazie a tutti. 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 a tutti.